buongiorno a tutti e bentrovati a questo video tutorial per far vedere come compilare la domanda di mobilità 2023 2024 andando su istanze online e utilizzando lo speed per diciamo accreditarsi per accedere andiamo proprio nella pagina iniziale distanze e scendendo troveremo già dal 6 di marzo la possibilità di compilare la domanda di mobilità allora vedete che abbiamo la domanda di mobilità per il secondo grado della secondaria scendendo ancora abbiamo la domanda di mobilità per i titolari della secondaria di primo grado scendendo ancora avremo la domanda di mobilità per chi è titolare alla primaria e ancora più giù la domanda di mobilità per chi è titolare sull'infanzia facciamo un esempio sulla scuola secondaria di secondo grado e prendiamo il caso di un titolare per la scuola secondaria di secondo grado andando a vai la compilazione si accede a una pagina in cui si ci sono tutte le indicazioni per la protezione dei dati personali e per la privacy l'informativa sulla privacy si per poter procedere si deve fare proprio in fondo a questa pagina si deve slashare questo ho letto accettato i termini e le condizioni legali e cliccare su avanti per accedere alla pagina dell'anagrafica del docente titolare una volta entrati nella pagina dell'anagrafica facendo ancora avanti si entra proprio nell'area della disponibilità delle domande sempre su istanze online vedete abbiamo anno scolastico 2023 2024 dunque una domanda per il prossimo anno scolastico e per un ordine di scuola distanza della scuola secondaria di secondo grado facciamo in riferimento a questa pagina andiamo a vedere quali domande è possibile presentare ecco qui avete la scelta del tipologia di istanza da presentare la prima è quella di trasferimento dunque una mobilità territoriale che cliccando su inserisci si va a proprio a indicare il trasferimento che può essere di natura provinciale o interprovinciale in un'unica domanda dunque si possono mettere le preferenze sia della propria provincia di titolarità e dunque sarà un movimento di natura provinciale ma anche nella stessa domanda si possono inserire le preferenze di province diverse da quella di titolarità dunque con un'unica domanda si potrebbe presentare sia la domanda a carattere provinciale sia la domanda a carattere interprovinciale l'ordine delle preferenze in questo caso sarà importantissimo perché se si vuole dare priorità al trasferimento provinciale dovranno essere messe come prime preferenze quelle della provincia di titolarità e successivamente quelle diciamo di altre province viceversa se si vuole dare priorità a un trasferimento interprovinciale si metteranno prima le province diverse da quelle di titolarità e poi successivamente quelle della provincia di titolarità dunque il candidato l'aspirante alla mobilità potrà scegliere poi abbiamo qui un la possibilità di fare il passaggio di cattedra e dunque inserire la domanda di passaggio di cattedra per chi ha superato chiaramente l'anno di prova e per coloro che hanno un'abilitazione diversa da quella di titolarità nello stesso grado ecco di secondo grado in questo caso perché si parla di titolarità di secondo grado come ultima richiesta ci sarà il passaggio di ruolo per la scuola secondaria di secondo grado chiaramente questo per chi proviene da un ruolo diverso da quello di secondaria di secondo grado ecco queste è la panoramica delle domande che si possono presentare speriamo che questo video tutorial sia stato soprattutto chiaro e utile nostri telespettatori ci saranno una serie di altri video tutorial che andranno a essere complementari al a questo video grazie e arrivederci ai prossimi video